Va in testa l'Ucraina, 108 punti virgola 60. Adesso vediamo Thomas Stahle, inquadrato classe 1994. Il fenomeno britannico, con lui il ben più navigato Peter Waterfield, classe 1981, 13 anni di differenza. Ordinario, rovesciato, carpiato. Provano a restare nella scia dell'Ucraina. 52,20, perdono qualcosa ma non molto. Adesso la Russia, con Zakharov e Minibayev. Ilia Zakharov, Viktor Minibayev. Per andare a prendere l'Ucraina avrebbero bisogno della perfezione. 105 punti virgola 66. È vero che Micham, con questo tuffo, ha vinto l'oro a Pechino, ottenendo 112 punti. Pechino l'impiede. C'erano due decimi in più di coefficiente, di difficoltà. Micham che è assente, per infortunio. Niente da fare, non hanno girato in maniera sincrona. Vedete, vanno un po' per conto loro. Entra prima Waterfield. 77,76. Vincono a 407,46. Un bel passo indietro rispetto alla vittoria nelle World Series, nella tappa di Sheffield, quando avevano sfiorato i 450 punti.